Attenzione, rilevati organismi Zerg. È per questo che sono qui. Mi accetteranno come la loro regina. Oppure inizierò a ucciderli uno per uno finché non lo faranno. Cosa sei? Io sono Isha. Un tempo solevi conservare dentro di me tutte le idee, i pensieri e i piani. Non ricordi? Sì, mi ricordo di te. Ma la cosa importante è che tu ti ricordi di me. Tu sei la regina delle lame. Ti obbedirò. Perfetto. Richiama lo sciame e preparati a raggiungere Korra. Lo sciame è nel caos e non risponderà al tuo richiamo. Buona parte degli Zerg su Char sono sotto il controllo della matriarca Zagara. Vuole creare il suo sciame. Finché vivrà, lo sciame sarà diviso. Non per molto. Portaci sulla superficie. Zagara è qui per compiere il tuo volere. Dimmi, Zagara, come cacceresti i Terran da questo pianeta? Annienterei la loro fortezza sull'altura impalida. Ma l'unica via per raggiungerla passa dalla trincea ad ossa. Ricorda che i Terran hanno sommerso le gallerie con la lava. Saremo esposti in superficie finché non raggiungeremo l'altura. Questo non mi preoccupa. Warfield non ha idea di cosa lo aspetti. E che mi dici dell'artefatto Xel'Naga? Potrebbero averlo ancora i Terran? Potrebbero, ma so che non è su Cher. Non è un pericolo per noi. Ritirarsi! Ripeto, a tutte le forze del dominio nella trincea, ritirarsi! Abbiamo perso il controllo! Kerrigan, qui è Warfield. So che puoi sentirmi. Ho un messaggio per te. Porta tutte le tue forze. Porta l'intero sciame. Non voglio perdere tempo a cercare i superstiti. Dopo che ti avremo annientata. Ci vediamo sull'altura impavida, vecchio. Abbiamo raggiunto la fortezza Zorra. La trincea l'Asia è pronta a ricevere. Non c'è tempo per le buone maniere. Potremo ovunque si siano nascosti e li travolgono. Prepararsi al lancio nucleare! Voglio che di quegli insetti restino soltanto cadaveri ardenti! La via è libera! Andate, traccate lì tutti. Ma lasciate a me, generale uomo. Tenente, caricate i feriti su quelle navette. Abbiamo quasi finito. Devo mandarle una squadra. No, no, tenente. Pensate ai feriti. Io troverò un altro modo. Generale, i zerga sono troppi. Non ce la faremo mai! Kerrigan. Stami a sentire. Ho tre navette piene di uomini troppo malandati per rappresentare una minaccia. Mariti. Padri. Lascia andare quelle navette. Mi hai sentito? Generale, siamo circondati! Non c'è via di scampo! Bastarda. Non sei neanche più umana. Ci hai traditi tutti. E per cosa? Per mera vendetta? Quanti innocenti hai ucciso? Quanti ancora devono morire? Cosa direbbe Reynor se ti vedesse ora? Generale! Non abbiamo scampo! È la fine! Generale! I zerga si ritirano! È un miracolo! Ce la caveremo! Generale! 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 Generale!